Per il proseguimento dei lavori di risaramento della pavimentazione lungo la strada statale 18 Varra Cilentana sarà istituito un senso unico alternato per disciplinare il traffico veicolare. Nel dettaglio, dal 16 luglio all'8 agosto 2019, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del giorno successivo, escluso i giorni festivi e prefestivi, non ci saranno più le chiusure del tratto stradale, le deviazioni sui percorsi alternativi, ma sarà istituito solo un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico o movieri. Inoltre, saranno in vigore il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità di 30 km orari in prossimità del cantiere.